C'è un personaggio che ho rapito dal fantabosco dei social pugliesi e sto per portare qui in studio a Social Night. Lui unisce la passione per l'ambiente alla comunicazione social e adesso dovrà comunicare con me. Non sarà facilissimo ma ce la farà perché questi sono i suoi contenuti. Vediamone uno. Ma perché gli olivi secolari si avvolgono su loro stessi? La risposta ti sorprenderà. Sono in Puglia nella piana degli olivi secolari tra Monopoli e Ostuni. Qui la densità di olivi secolari è davvero incredibile. Ogni puntino che vedete sulla mappa corrisponde ad un olivo secolare con il proprio codice identificativo. E pensate sono ben 345.493 olivi solo in Puglia. E guardandoli poi da vicino si nota qualcosa di comune tra tutti questi olivi. E cioè il loro fusto. Contorto nella stessa direzione cioè in senso orario. Questo molto probabilmente perché gli olivi più antichi avendo un accrescimento molto più lento risentono del moto generato dalla terra. E cioè proprio dalla rotazione terrestre. Avvolgendosi in senso orario. Un po' come succede con i fluidi applicando la forza di Coriolì. Nell'emisfero boreale ritroveremo una rotazione oraria mentre nell'emisfero australe una rotazione anti-oraria. A supporto di questa tesi di fatti in Cile sono stati ritrovati degli olivi piantati dai coloni spagnoli nel 1500 con una torsione anti-oraria. Questa ad oggi è la teoria più accreditata ma una cosa è certa. Gli olivi secolari sono dei veri monumenti naturali ma soprattutto testimoni della cultura e della storia pugliese. Bellissimo questo abbraccio io faccio una piccola torsione non so se oraria o anti-oraria ma devo dare il benvenuto a Botanico. Botanico, Botanico. L'ho capita. Sei un consulente ambientale raccontaci meglio che fai. Io mi definisco così consulente ambientale ma in senso molto più ampio quasi imprenditore ambientale perché provo a trasformare il lavoro classico, come posso dire, provo appunto ad unire il lavoro a natura, lavorare con la natura per la natura. Ma infatti quando ti ho invitato tu mi hai detto qualsiasi cosa sia va bene purché si parli di natura pur di divulgare io vengo anche a trovare te quindi grazie mille. Grazie a voi. Abbiamo visto questo abbraccio all'ulivo secolare bellissimo. Cosa abbracceresti nella nostra regione perché ha veramente bisogno di attenzione e di affetto a livello di natura? Beh la dinamica molto complessa in Puglia ovviamente in questo momento lascerei ancora quell'abbraccio agli ulivi secolari così minacciati da axilella e ma a prescindere dal disseccamento generale degli ulivi quindi lo lascerei lì dov'è in questo momento. Domanda bruciapelo secondo te si sta facendo abbastanza? Non è mai abbastanza. Ok. Ecco che parte il nostro viaggio attraverso i tuoi canali social. Quando hai deciso di debutare adesso vediamo sei su Instagram e stai andando alla grande quando hai deciso appunto di affrontare queste tematiche così importanti in un mezzo così divulgativo così usato? In realtà la storia va ritroso anche nel mio profilo social scorrendo un po' verso il basso si vede che ci sono stati dei timidi tentativi iniziali con dei video fatti qualche anno fa. Li hai lasciati non li hai cancellati. Sì sì perché mi piace proprio questa evoluzione nel mio modo di comunicare nella mia esperienza in generale in ambito sia ambientale che social quindi appunto parte da tanto la voglia di insegnare di divulgare la bellezza della natura perché sono fortemente convinto del fatto che la natura si possa proteggere attraverso la consapevolezza e la conoscenza proprio di ciò che ci circonda. Di solito in estate la nostra regione viene veramente invasa da un flusso turistico della quale io vado veramente orgoglioso purché sia rispettoso del nostro territorio. Cosa ne pensi e quali argini possiamo creare affinché ok la gente possa venire creare anche un indotto economico molto importante per la nostra regione ma che non sia rovinoso per il nostro ambiente. Allora questo è una domanda molto... Sparando tutte le parole forbite gli ultimi minuti poi mi sentirai proprio imprecare perché non è il mio linguaggio. Vabbè però è bello appunto provarci. Yes. Diciamo che questo è il punto cruciale penso dell'intera generazione cioè riuscire a proteggere la natura o meglio l'equilibrio naturale attuale ma senza intaccare l'economia o comunque gli interessi dei singoli. Perché non è giusto magari dire ok non facciamo più questa cosa a discapito a livello economico di qualcuno rispetto appunto al proteggere solo la natura. Bisogna trovare il giusto bilanciamento tra protezione ed economia. Questa è veramente la cosa molto più complessa. Ad oggi ritornando alla domanda diciamo che il flusso di turisti crea sia un indotto molto importante. La Puglia quasi si sorregge solo da questo. Non solo però... Principalmente. Principalmente. Appunto servirebbe forse tutelare un po' di più soprattutto le spiagge molto impattate appunto per creare fruizione e renderle disponibili a questo turismo. Noi siamo molto avanti però forse dobbiamo fare un passo indietro e accendere i riflettori sulla giornata di oggi. 8 marzo giornata internazionale della donna. Ci sono ad ogni angolo delle strade delle mimose e dei rami di mimose in vendita. Abbiamo questo articolo, le mimose sono fiorite già mesi fa, fa parte di un tilt che riguarda un po' tutto l'aspetto ambientale. E tu mi dicevi che infatti hai notato delle mimose un po' malandate adesso. Eh sì, si è notato appunto anche agli angoli o nei fiorai hanno anche loro avuto una certa difficoltà nella ricercare, ritrovare mimose belle. Perché poi ovviamente la questione è sempre quella, mimose che siano belle gialle con un bel fiore, anche se appunto poi entrando in cavilli molto più tecnici e botanici, il fiore è un... quelli sono solo gli stami del fiore, quindi dove si ritrova il polline? Te lo stavo per dire. E poi quella non è proprio una mimosa ma è un'acaccia. Sì. È un'altra cosa ancora. Occhio. Però lasciamo questi nomi comuni. Il miele d'acaccia. Sì, molto più ampio. Non c'entra niente. No, no, è pur sempre un'acaccia, quindi... Ah, ok, ok, ok. Però, diciamo, l'ambientalista come vivi questo diffondersi, questo mettere in vendita dei ramoscelli? Fa male all'albero. Ah, no, io penso che qui ritorniamo sempre alla questione proteggere ma non esasperare, perché sennò poi si finisce troppo nel... Si diventa fanatici. Sì, questo è il grande problema forse anche insieme a tutti quelli detti prima, è il non polarizzarsi troppo, stare nella via di mezzo, perché proteggere troppo crea scontri, distruggere troppo crea scontri e avere scontri sappiamo bene che non portano da nessuna parte. Dobbiamo invece far scontrare le nostre mani così per schiacciare la plastica. Vediamo questa clip insieme, eh? Che collegamento. Non schiacciarla così, ma così, su un lato lungo. Da qui dipenderà il tuo destino, se è riciclata al 100% oppure dispersa per sempre in discarica. Questo perché una volta schiacciata a fisarmonica, è finita sul nostro trasportatore all'interno del centro di raccolta, i sensori ottici che riconoscono e dividono le diverse tipologie di plastica non avranno sufficiente superficie per analizzarla e quindi individuarla come bottiglia e PET. Venendo così, scartata, finendo nell'indifferenziata, perdendo risorse importanti, vanificando l'intero processo del riciclo. Fare la differenziata è fatta bene, può fare davvero la differenza. Botanico, è complicato, eh, però fare sta raccolta riciclata, differenziata. Beh, sì, diciamo che come tutto bisogna un po' abituarsi, perché anche semplicemente dividere, cioè, l'altro giorno ho visto un video molto carino, proprio sulla questione raccolta differenziata. Non bisogna più immaginare i cestini come rifiuti, ma come piccoli tesori, come piccole banche in cui deporre qualcosa di importante. Perché poi tutto questo verrà riciclato e riutilizzato per fare nuovi materiali, senza impattare sull'ambiente. Quindi, succo del discorso, fare la differenziata vuol dire proteggere il pianeta. Facciamo un renaming del ex cestino, come lo chiamiamo adesso, nel 2024? Wow, renaming del cestino potrebbe essere... Contenitore della nuova vita. Non so se vogliamo usare... No, forse è un po' troppo religioso, non lo so. Beh, è un po' troppo profondo, la gente ha bisogno di leggerezza talvolta. Quindi io gli darei tipo... Contenitore... no, non mi viene, ho messo due piedi. Rimaniamo connessi con te e poi ce lo svelerai. Fai tantissimi altri contenuti, dai consigli e poi in molti dei tuoi followers vogliono sapere come si evolve il tuo orto. Eh sì, diciamo che ho quest'altra passione parallela a tutte quelle che già si coltivano. Ma vabbè, questo gioco di parole... C'è un autore anche tu? No. Me lo devi suggerire? Va bene, va bene. Ok. Appunto, sull'agricoltura è uno dei miei hobby e ci tengo appunto a mettere realmente poi le mani in pasta. Dov'è il tuo orto? Che vengo a rubare i frutti? Su Monopoli, su Monopoli. Ah, ti mantieni vago, va bene. Cosa sta crescendo adesso? Sei in periodo di potatura? Beh sì, questo è un periodo importante. Me l'ha detto Telecamere Spente! Io non ne avevo idea. Sì, sì, adesso si stanno potando gli olivi, anzi si è iniziato già da qualche settimana per la potatura degli olivi. Così ci si fa trovare pronti poi per la raccolta dell'olio e per fare olio buono ed extravergine d'oliva. Oh, buono, buono. Comunque sì, al momento ho fave e piselli, belle lini che crescono. No, no, adesso sono ancora piantine e sono in fiore. Ah, ok. Tra circa un mesetto e mezzo, poco più, dovremmo raccogliere i primi macelli. Dovremmo? Devo venire io a rubare i tuoi frutti. Ti porto un sacchetto. Ah, grazie. Hai fatto un tutorial, hai insegnato qualcosa, vediamolo. Fave e piselli, non le ancora piantate? Beh, a dicembre si è ancora in tempo. Armati di zappa, iniziamo a preparare i nostri solchi. Una volta tirato i solchi, altri semi di fava, ne mettiamo tre per ogni punto, dopo altre tre, dopo una ventina, trentina di centimetri. E così via, per tutto il filare. Mentre per i semi di piselli, basterà prendere una manciata e distribuirla lungo il filare. Possiamo coprire. Tutto ricoperto. Ok, ma quante piantarne? Beh, per una famiglia media vanno bene mezzo chilo di semi, sia di fava che di piselli. Adesso aspettiamo marzo per la raccolta. Buon orto a tutti. E quindi ci siamo quasi? Diciamo che lì sono stato un po' troppo positivo. Ah, ecco. Un po' più lunga la tempista. Sarà aprile? Sì, sarà fine aprile, primi di maggio. Però tu sai che il popolo che ci guarda, soprattutto sui social, è sempre lì pronto a lanciare la critica. Quindi li anticipo io. Tu in questo video reggevi il telefono, ho visto qualcun altro zappare. Sì, sì, c'era mio suocero lì a zappare. Salutiamolo. Ciao Adelmo. Ma poi zappi anche tu. Sì, zappo, rizappo. Qui ho le mani ancora fresche di potature in atto, quindi sì, ci diamo da fare a prescindere. Chi ha tramandato in te questa passione per il verde e per l'ambiente? Allora, diciamo che tutti nella mia famiglia sono molto distanti dall'aspetto ambientale. Sono solo, sono dei grandi lavoratori, tra operai, tra comunque lavori molto manuali e tecnici. Io la prima memoria che ho in ambito naturale ce l'ho con mio padre. E quando ero molto piccolo, mi faceva guardare insieme a lui i documentari sull'Amazzonia. E vedevo dai disastri alle cose meravigliose dell'Amazzonia. E quindi penso che questo mi abbia generato qualche, mi abbia lasciato qualche seme dentro la mia testa. E poi è germogliato e adesso siamo qua. Qual è il tuo divulgatore del cuore? Penso a un Pietro Angela oppure a un Mario Tozzi? Beh sì, diciamo che il sogno quando ero ancora più piccolo, ma anche adesso, è riuscire a divulgare al grande pubblico gli aspetti, le meraviglie naturali. E diciamo che Pietro Angela è un esempio lusinghiero quasi, cioè a cui poterà mirare. Beh, però stai facendo nel tuo piccolo, nel tuo orticello, gioco di parole, non so se l'avete capito, un ottimo lavoro. Stiamo per toccare come ultima tematica una tematica molto spinosa. Perché magari, proprio per te che hai un orto, ci sono poi magari degli animali che possono rovinare il tuo orto. E tu che hai la fama di amante dell'ambiente, come ti comporti? Allora, io sul mio orto, diciamo che essendo una piccola coltivazione, parliamo di circa un ettaro, non utilizzo alcun fitofarmaco, comunque è totalmente biologico, anche se pure nel biologico qualcosa appunto di... Si può usare. Si può utilizzare, sempre in certi limiti. Però nel mio, precisamente, io guardo lì le mie foglie di bietole, che ho appena raccolto, perché non l'ho detto, avevo anche bietole e altre cose, le bietole erano un po' mangiucchiate, va benissimo così, perché il problema vero lì è quando le devi vendere. Perché la gente vede una foglia mangiucchiata, rispetto a una bella lucida, il supermercato sceglierà quella lucida. La vuole bella. Eh sì, l'occhio purtroppo vuole la sua parte in ambito alimentare. Sbagliamo? Sì, assolutamente. Assolutamente. Cioè... Se pensiamo, tipo, alle zucchine spagnole, tanto di recente ci sono stati diversi articoli su questa tematica, le zucchine spagnole sono ricoperte di cera, una cera particolare per non farle prosciugare, mentre quelle italiane no, sono letteralmente naturali, e sono anche più piccole, si disidratano prima. Quindi come le posso trovare io, esteticamente? Diciamo che il focus principale è cercare chilometri zero comunque di italiani. Certo, quindi guardare sempre la provenienza. Sì, già in Italia ci sono, ma anche in gran parte d'Europa, alla fine restrizioni molto serie. Il problema è quando vogliamo acquistare frutti extraeuropei, dove le regole a tutela ambientale dei lavoratori e della salute del consumatore sono ben diverse. Quindi possiamo ritenerci un po' fortunati perché in Italia ci sono più tutele in questo ambito. Beh sì, in Europa siamo nettamente avanti rispetto al resto del mondo. Almeno su questo aspetto. Sì, però potremmo fare, come detto prima, molto di più. Che rapporto hai? Occhio che ci stanno guardando in tanti, e loro sono tantissimi, con i pappagalli verdi. Oh, questa è una nota tanto dolente. L'ha toccata anche il mio amico Michele Monopoli facendone ironia ed ha avuto un sacco di alleati perché è una tematica molto scottante. Guarda, io ovviamente, cioè la tematica sul pappagallo verde ce lo insegnano proprio all'università. È una lezione dedicata solo all'esigenza e alla problematica di questa specie aliena perché appunto non è... Aliena? Sì, è aliena. Ma sai che ho visto un reel a riguardo? Ma forse era il tuo. Vediamolo insieme. Pappagalli verdi, li avete mai notati nelle vostre città? Carini, vero? Danno quel senso quasi esotico. Roma che ricorda Rio de Janeiro. E se vi dicessi invece che anche loro sono una specie aliena? Eh sì, non esiste solo il granchio blu. Dietro questi colori sgargianti si nasconde quindi un altro disastro ecologico. Abbiamo raccolti agricoli devastati, specie estinte localmente come piccoli passeriformi fino ad intaccare la quiete e il verde pubblico. Vivendo in grandi colonie generano rumori costanti vicino le abitazioni oltre che ad intaccare la stabilità degli alberi su cui vivono creando così danni economici alla biodiversità, alla società. Io voglio bene i pappagalli verdi però. No, diciamo che spezzo una lancia in favore dei pappagalli verdi. Perché la colpa ovviamente non è mai della specie aliena presente ma è dell'uomo che l'ha portata e non ha gestito bene tutta la situazione. Andava un po' gestita meglio. Sì, diciamo che siamo un po' troppo liberi tra l'import ed export di specie. Ok. Oltre che queste ovviamente quelle commerciabili perché se poi entriamo nella questione di quelle arrivate qui casualmente la questione è infinita. Prossimi step, prossimi step divulgativi. Dove andrai? Su che tasti pigerai? Beh, al momento sto lavorando a tantissimi futuri video tra cui uno dei più prossimi è sull'ingerimento di plastica. Quindi quanta plastica mangiamo ogni anno? No, quanta. Assai. Lo dico adesso, lo guardiamo prossimamente. Una piccola anticipazione. Allora, piccoli... Devo decidere se andare al sushi stasera o meno. Diciamo che normalmente riusciamo ad ingerire qualche grammo di plastica ogni anno anche un po' di più in maniera casuale, senza volerlo. Pesce? Non solo, non solo, da alimenti appunto imbustati in plastica, riscaldati. Mi sto dilungando ma la tematica è super interessante quindi tu ci dovrai promettere un capitolo numero due. anche perché la nostra collega Giuliana vuole un tutorial sui capelli e la salute naturale dei capelli. Lasciarli naturali. Ok, lo prometti? Promesso. Quindi Giuliana sei già sulla cattiva strada perché sei una tinta rifatta dalla testa ai piedi ma ti voglio bene. Come voglio bene a tutto il nostro pubblico che ci ha seguito a tutto il comparto tecnico Francesco Terlizzese ma soprattutto a tutti gli ospiti come Botanico che hanno supportato Telebari e Socialite. Noi torniamo con nuovi contenuti dalla settimana prossima lunedì. Vi lascio al mix del meglio di. Bye. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.